Il tenore Malipiero Nel Don Quixote di Frazzi, otto anni di lavoro confermano la pura autenticità di un linguaggio musicale. Adesso il ballo dell'Armida rossiniana. Savinio scenografo e Massim coreografo controllano i costumi. L'Armida era dimenticata da lungo. Janine Charra ne ridisegnerà col suo passo le danze. La Caglia se Malipiero ridarranno voce alle melodie. Serafin risusciterà quell'orchestra. Luce sull'inaugurazione. Il sovrintendente Votto fa gli onori di casa. Sta entrando a scelva tra un pubblico che dimostra come il maggio sia uno dei più fiorenti festival musicali. Luce sulla scena. E Rossini ritrova a Firenze gli applausi della prima napoletana del 1817. Grazie. Grazie. Grazie.